Il Natale a Firenze Pronto o si? Allora il compleanno lo festeggia ai fame che mia? Si 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 ho fissato al lotto ai fame Vai ci siete dopo Ganga ragazzi stasera ganga si fa la beuta vai Non importi il regalo basta il pensiero Ti ringrazio per gli auguri grazie A dopo vai vai A dopo ci ti butta via dai Ma questa gli è fatta E il mio compleanno E stasera c'ho i regali Oh Chiara Ma quei ragazzi che sono già arrivati Che si parla di arrivato? E no non c'è nessuno Mi metti da sedere perchè tu puoi fare l'illugia Guardati dai Il compleanno Il compleanno Il mio compleanno La ria si fa ganga Il mio compleanno Sono già le 9 Ancora non c'è nessuno Pronto ragazzi dove siete? Come andiamo? Ma non te l'aveva detto la Carmela? Noi ci siamo venuti a stare Ti fanno fissare per 12 e poi non vengono Sentiamo quest'altro Gisus abbi pazienza guarda E sono qui sulla via di Damasco ma è tutto bloccato E io sono qui solo a aspettare a chiarire alcuno E io ce la faccio Ma anche se tu passi dopo Verrò un altro anno Via Ciao ciao Eh ma io ho capito Tu vedrai mi voglia fare la sorpresa Cucciolo E non c'è nessuno Nisba E allora mi sta a chiamare a tirare il pacco Che amici di merda che tu hai eh Ci penso io a te Ti fanno un bel panino Pane con ciccioli Con hamburger d'anatra E questa è la marmellata Magliori 6 mandarino Rucola E formaggio brì E uovo di quaglia Con semi di papamero Marmellata salata Di cipolle di trofeo Una squisitezza Oh ma piove Non piove E con l'hamburgerina all'anatra ci sta bene la maledetta domenica. Ma che piove? Gesù? E' tutto pronto? Gesù? E' piove, piove. Allora? Cosa stai mangiando? Oh ma vogliamo solo mangiare il panino. Demi il compleanno oggi. Guardi che la vedo. Si però non si può fare nulla. Tu stai addosso. Non facci peccati di gola. Me lo facci. Me lo facci mangiare. Non lo facci. Salci dai mandarini. Almeno si dàvi le mani prima. Me lo facci. Fame Chimica. Aperti anche per Natale. Ven via a sentire di nuovo panino all'anatra. Se no è che tu canta affari. Fame Chimica. A Olmi di Quarrata. Aperti sempre anche per Natale. 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 Aperti sempre per Natale. Grazie a tutti.